soltanto il terreno prosciugato del Fugino come grande bacino di attrazione di investimenti. Allora, facilitazioni per quanto riguarda il conseguimento del terreno insediabile, veri e propri tappeti di insediamento produttivo. Secondo, fare in modo che sia possibile inanellare pacchetti tecnologici e pacchetti formativi che facciano sì che l'imprenditore si senta davvero quasi coccolato affinché in Abruzzo si senta lui cercato, preferito, facilitato. Quarto, fare in modo che il sistema scolastico e universitario sia una funzione compiegabile rispetto al sistema delle imprese e il sistema delle imprese sia compiegabile nei confronti del sistema della formazione dell'università. Fin qui lo trovate scritto, lo sentite dire. Entriamo nel merito, occupandoci anche per un attimo di politiche attive del lavoro. Si è sempre sostenuto che un imprenditore, solo quando ha nuova committenza, orienta lo sguardo su nuova forza lavoro da impiegare. Guardate che non è così. Guardate che può accadere che un'impresa, ponendo gli occhi giusti sulla giusta potenzialità di forza lavoro, poi a balle può accadere anche che trovi nuova committenza, nuovo contratto di lavoro. E per fare questo che c'è bisogno di attivare? C'è bisogno di fare in modo che lo stagio e il tirocinio siano opportunità su misura di tutti. Oggi lo stagio e il tirocinio sono opportunità su misure, diciamo così, di famiglie molto dotate sul piano relazionale. E poi c'è la componente dotazione di bravura di quella risorsa urbana. Potrei anche andare oltre. Io ho lavorato per un periodo significativo della mia vita nel gabinetto di un ministro che non era assolutamente né casuale né improvvisato. Noi dobbiamo fare in modo che il tirocinio e lo stagio siano un'opportunità orizzontale della giovane forza lavoro potenziale. E per fare questo significa che le norme di competenza delle regioni devono completare e affinare la dotazione normativa nazionale sul punto facendo in modo che si determini l'innesto tra la giovanile forza lavoro ma anche la non giovanile forza lavoro e l'impresa. Su questo punto di contatto che è lo stagio e il tirocinio. perché un colloquio conoscitivo di 13 minuti non rende possibile la conoscenza di niente. Invece un colloquio conoscitivo di 180 giorni, qual è il tempo di uno stagio o di un tirocinio consente l'incrocio di domanda e offerta di un'abilità lavorativa. E l'arrivo di un'abilità lavorativa può portare con sé, come è accaduto in imprese reali di questa regione, nuova contrattualistica a favore del paniere dei contratti di quell'impresa. E su questo io scomodo la categoria della politica. Della politica nel senso che produca norme, che produca procedimenti, che produca irrobustimenti nel paniere delle condizioni di attrazione. Ancora, c'è bisogno di fare in modo che la regione si doti, sapendo che non è una fatica impossibile, o di Icaro o di Sisifo, insomma, c'è bisogno di un'armatura bancaria per questa regione. Perché tutti i momenti di lancio dei progetti di vita nuova dell'impresa hanno bisogno anche di copertura bancaria. Ma non solo dal punto di vista della erogazione del credito, anche della sapienza che è connessa ad un'armatura bancaria diciamo appartenente a una regione. Tutte le nuove strumentazioni di resa competitiva di un territorio oggi richiede investimenti all'insegna del project financing o di modalità innovative di coniugazione dell'approvvigionamento della risorsa finanziaria e di realizzazione infrastrutturale. Se manca un player importante territoriale per dimensioni, per attaccamento, per disponibilità di cervello decisionale, lettore e progettuale sul territorio regionale, molto di quello che si può fare non si fa. E non si fa, e se anche si facesse, nei tempi in cui ci serve. Per cui c'è bisogno anche di mobilitare questo a favore di questa regione. C'è bisogno anche di fare in modo che ricominci nei territori del Mezzogiorno d'Italia a contare al pari della risorsa finanziaria, la risorsa potente. C'è una norma che è sfuggita in più perché ormai siamo vittime di un cantiere di innovazioni normative che naturalmente o non ci si riesce a ritracciare il bandolo della matassa o addirittura si arriva a ritenere che sono norme non vigenti perché sono talmente copiose le nuove introduzioni normative che si può pensare quasi fanciullescamente o che non siano ancora vigenti o che non possano essere vere. C'è una norma del decreto sviluppo che concepisce le procedure sperimentali della pubblica amministrazione. Guardate, io con le multinazionali ci parlo perché mi incuriosiscono, perché mi appassionano, perché possono arrivare quote di risposte al nostro bisogno di sviluppo e di crescita dei multinazionali. Non volendo dire che tutto quello che ci occorre sul piano della ripresa economica deriverà dalle multinazionali, ma alla domanda rivolta ad una multinazionale che cos'è che cercate prima di decidere se fare l'investimento qui o altrove, il fattore tempo, il fattore impiego della discrezionalità del potere è un fattore straordinariamente incidente. Le procedure sperimentali della pubblica amministrazione sono lo straordinariamente atteso per fare in modo che un progetto di vita di impresa si realizzi. E io ritengo che questo debba far parte del paniere di dotazioni che viene illustrato da un territorio quando vuole competere e vincere la competizione, affinché torni ad aumentare il numero delle imprese nate, il numero delle imprese capaci di robustirsi, di internazionalizzarsi, di fare contratti di lavoro, di fare innovazioni, di fare anche vita comunitaria con la società. Io mi ricordo una bellissima esperienza che ha vissuto in Abruzzo nel 1956 Adriano Olivetti. Olivetti è venuto a investire anche in Abruzzo, addirittura a Pietranzieri, cara Giovanna, 1956. Io non c'ero più, naturalmente l'ho stanato dalle carte addirittura di una facoltà di architettura del Mezzogiorno d'Italia. Perché Olivetti andava sempre alla ricerca di senso nei territori e dei territori e in Abruzzo, attorno al cammino dei partigiani, lui ci ha voluto realizzare anche un'esperienza cooperativistica di giovani motivati. Ecco, di Olivetti, per il quale la memoria è solo dipendente dai libri della casa editrice e comunità, noi ci dobbiamo ricordare il rapporto perfettamente riuscito tra impresa e contesto, diciamo così, sociale esterno. Per fare in modo che un'impresa possa permettersi di arricchire, anche sul piano culturale e sociale, il territorio esterno, c'è bisogno che l'impresa stia bene, sia sentimentalmente motivata, insomma, nei confronti del territorio. A che questo accada? Noi dobbiamo superare la paura che a volte prende molti territori. in questo momento in Abruzzo c'è l'esatto contrario della fiducia, che è la paura. E la paura si riesce a superare se si è disponibile a utilizzare per intero la competenza di cui si dispone, per intero, alla luce anche della grande quantità di competenze che sta riguardando il livello di governo della regione. Consapevoli che la regione non è l'unico giocatore di questa mattina. Un giocatore importante, come ha detto il professore, è l'università. Sono le reti di impresa, il sistema delle banche, la comunità dei giovani, se questa comunità si organizza, l'Aquila è nata un'associazione straordinaria che si chiama AIC, che vuole coniugare la propria bravura acquisita studiando col bisogno di innovazione del territorio, con tutte le opportunità della dorsale europea. Hanno costituito all'interno di una esperienza associativa imprenditoriale giovanile un giacimento di bravure straordinaria, volendo finalmente portare l'Europa in Abruzzo e volendo portare l'Abruzzo in Europa, soprattutto acquisendo in maniera definitiva la cultura del progetto. Mai più si chieda risorse finanziarie per comunicare un minuto dopo cosa ci si fa, ma si precisi qual è il progetto per poi farlo attrattore di risorse e nella filiera delle risorse la più importante non è più la risorsa finanziaria. Io ho molto a cuore che l'Abruzzo si doti, diciamo così, dell'aspettativa di tre nuovi diritti che noi vorremmo statuire nel dettato statutario della regione. In Abruzzo ci deve essere il diritto alla velocità, il diritto alla facilità e il diritto alla bellezza. Quel sindaco che io ho citato prima, che poi è stato anche presidente della regione della Catalogna, Pasquale Maragai, espressione di un riuscito partito socialista del lavoro catalano, trovandosi affannato nella totale mancanza di risorse tradizionali, cioè delle risorse finanziarie, ed è un affanno all'ora del 92 in Spagna, oggi ancora affanno spagnolo, ma è affanno anche di grande parte dell'Europa. Lui, aiutato dal preside della facoltà di giurisprudenza di Madrid, si è messo a problematizzare la forza della norma. Come potere utilizzare la norma e la forza normativa per ovviare rispetto alla mancanza della risorsa finanziaria. Innanzitutto chiamò a raccolta tutta la comunità degli imprenditori della sua regione, spartendo i doveri, facendo in modo che ci fosse un'alleanza rispetto alla responsabilità. L'appuntamento era quello, un appuntamento sportivo internazionale, per il quale non ce l'avrebbe mai potuta fare con una reazione di tipo tradizionale la comunità catalana. Preso atto di questo, cominciarono a lavorare sulla norma. Come fare in modo, insomma, che si potesse trovare, rintracciare un sostituto della risorsa finanziaria. E lì si coniugò la flessibilità della procedura tradizionale. Una procedura decisionale tradizionale che desse luogo, invece, ad una procedura decisionale flessibile su misura delle caratteristiche del progetto delle imprese. La riqualificazione delle principali città della Catalogna, al tempo delle Olimpiadi, si è potuta fare grazie ad un patto strettissimo di responsabilità tra potere pubblico e vitalità privata. Entrò in campo una risorsa straordinariamente nuova, la risorsa tempo. Lungo l'asticella del tempo stabilirono il patto, quei pezzi espressivi di comunità. Io credo sulla risorsa potere, sulla risorsa tempo, sulla risorsa velocità, sulla risorsa facilità, noi dobbiamo costruire il domani di questa regione. In Abruzzo abbiamo un solo aeroporto, per esempio. Una comunità di imprenditori dello Yemen. L'Abruzzo ha la fortuna che l'ambasciatore titolare presso lo Yemen dell'Italia, la Repubblica Italiana, è un abruzzese, si chiama Luciano Galli, e lui si fece carico di accompagnare una comunità importante di imprenditori dello Yemen in Abruzzo perché volevano investire per l'aeroporto di Pescara. Ad una lettera formale di dichiarazione di disponibilità, diciamo, la figura competente a rispondere rispose undici mesi dopo, dicendo siamo interessati. È chiaro che quella risposta conteneva un disinteresse, perché scrivere undici mesi dopo che si è interessati, equivale a dire che c'era disinteresse. Oppure si è descritta involontariamente una inettitudine nell'utilizzo della responsabilità di cui si dispone. Ma tutti e due sono di una gravità inaudita, soprattutto se c'è la contezza della delicatezza del momento che vive questa regione. Ma perché non parlavamo del Teatro Flaiano che pure ha una grande importanza, diciamo, nella dotazione di strutture di questa regione, o della cimiterra di Chieti o di qualsiasi altro spazio ad alta vocazione produttivo-culturale? Perché si parlava di uno dei principali strumenti per fare in modo che le distanze si avvicinino e si avvicinino su misura dell'aspettativa della modernità. Se su questo c'è questo livello di distrazione, quella è una regione che non ci interessa. Poi circolano le informazioni. La Honda ha deciso di venire in Abruzzo non perché un prepotente ha convinto la Honda, ma perché ha saputo che c'era un reticolato di microimprese che riempiva i vuoti tra quello che loro sapevano fare, quello che il mercato chiedeva che si facesse. Le voci hanno determinato l'attrattiva di quegli insediamenti. Le voci. E le voci sono grande parte di un'opinione favorevole che si mobilita alla condizione che ci sia la capacità di precisare che in quel sito territoriale, nello spazio europeo, un progetto di vita dell'impresa viene riconosciuto come un progetto fondamentale di sviluppo per quella comunità. Io mi ricordo come è venuta in Abruzzo la Texas System. Noi vincemmo una competizione mondiale. Venne scelto il sito della Marsica perché lungo le coordinate principali per fare in modo che accada un fatto a rilevanza reale, qual è l'economia, dissero lì c'è lo spazio, c'è la vicinanza a Roma, c'è il sistema della viabilità. C'era poi un problema riguardante gli usi civici. Il professore parlava dell'interconnessione tra punti espressivi di una competenza decisionale. Lì ci fu molto di più, ci fu una specie di reazione dal stato di guerra. Una persona consapevole della delicatezza della partita, dell'importanza e della fondamentalità che chiama in causa la cultura della programmazione delle priorità, chiama a raccolta il commissario gli usi civici dell'Abruzzo per fare in modo che trattasse con una procedura accelerata quel tipo di inconversa. Quello che sto descrivendo io non è la declaratoria dell'abilità di uno solo perché non sarebbe questo né oggetto di curiosità all'interno di un'università né sarebbe l'indicazione di una soluzione di politica. Noi dobbiamo ristabilire la vigenza della cultura della programmazione. Perché non è vero che non si può fare nulla. Non è vero che se c'è una specie di bonomia del dio mercato allora le cose si aggiustano. C'è invece la necessità possibilità che il potere ritrovi il suo cammino, il suo sentiero e precisi esattamente come reagire nei confronti degli impulsi della società. Sapendo che prima di tutto occorrono politiche di contesto. In Abruzzo abbiamo in questo momento due pratiche accese col Ministero dello sviluppo economico e con l'Europa per quanto riguarda le zone franche urbane. Una che colpisce l'Aquila sanzionandola positivamente e una che colpisce Pescara sanzionandola positivamente dove la sanzione è il riconoscimento. Però tutti e due si trovano al 95esimo minuto. Hanno superato abbondantemente il tempo della partita e manca il niente finale per fare in modo che questo venga definitivamente validato e riconosciuto vigente. E si tratta questo tipo di procedimento come se fosse l'ultimo degli elementi di dotazione di un sistema regione. Io ribadisco che l'incentivo fiscale, la zona franca dal punto di vista fiscale, non è l'elemento decisore, ma è un elemento che contribuisce a ripristinare la fiducia. Il fatto cioè che c'è il contrario e il disinteresse in un territorio. Vi dicevo i tre diritti che noi dobbiamo stabilire in questa regione. La facilità, la velocità e la bellezza. Noi dobbiamo fare in modo che in un lasso di tempo che si stabilisca, il tempo di reazione dell'amministrazione pubblica complessivamente intesa, quella di dotazione regionale, qui vi comprendendo anche i comuni, deve essere pari a zero. Le procedure riferite agli aspetti urbanistici e ambientali, ponendo dei limiti. È chiaro che non si può immaginare di edificare uno stabilimento industriale davanti alla cattedra di San Bernardino. Sagomando i siti dove devono accadere i nuovi fatti economici ed imprenditoriali di questa regione, poi i tempi di reazione devono essere zero. In Abruzzo abbiamo avuto un comune, negli anni 80, a chi aveva disoccupazione zero. E andrebbe sindacato dall'università. Indagato e sindacato. Questo comune era Mosciano Sant'Angelo. È presente anche il sindaco di quel comune e di quella stagione. Lì non c'era ancora la norma pensata dal Parlamento e resa completa dal Ministero della Funzione Pubblica sugli sportelli unici. Per adesso lo sportello unico è un elemento della contrattualistica sindacale. Cioè dà un di più a chi ha quella targhetta. Ma non è vero che dà un di meno di tempi all'imprenditore che deve insediarsi. Intanto perché non si pratica il potere sostitutivo. Il potere che avuchi le competenze che non hanno ad impiuto. Tant'è che anche davanti alle figure commissariali noi in Abruzzo siamo capaci di convocar le riunioni. Se voi pensate a quello che è successo e che succede all'Aquila, adesso vi prendo un attimo il gilet della passione di politica. Ma è possibile che noi dobbiamo essere invasi, scusatemi, da architetti del territorio, dal punto di vista dei poteri commissariali? È possibile immaginare figure che abbiano il concepimento del procedimento snello e sollecite dell'assunzione di responsabilità? Ogni volta che c'è da fare un passaggio che abbia una qualche complessità insita si ritiene che ci voglia una legge. Il migliore Ciampi quando ha fatto non la figura di garanzia, ma il capo del governo ci disse e ci assicurò che con lui non ci sarebbe stata una nuova legge davanti ad ogni problema. Consapevole del fatto che la pubblica amministrazione non è stata pensata per affrontare questioni semplici, ma anche per affrontare questioni complesse. Anche lì quello che noi abbiamo pagato è la totale assenza di cultura delle priorità. La connessione intersettoriale è una connessione che non si attiva poiché non c'è l'esatta avvertenza della gravità della situazione. L'esatta avvertenza della gravità della situazione è frutto di studi riguardanti i termini della società fatti con serietà e poi resi vigenti al pari delle norme. La fotografia socio-economica di questa regione o non è stata più fatta o quando è stata fatta non è stata resa vigente, tant'è che si è creata una duplicità inconciliabile tra la fotografia descrittiva dei numeri preoccupanti della società e dell'economia di questa regione e poi l'impiego dei poteri decisionali. Per farmi capire dai ragazzi che sono presenti, questa è una regione che ha avuto il libro bianco di Cazzaniga sulle incompiute e sugli edifici pericolanti. Tra questi edifici pericolanti e sulle incompiute ci stava anche la prefettura dell'Aquila, libro bianco di Cazzaniga fatto nel 1993. Quel libro doveva informare di sé gli investimenti del sistema regione sulla messa in sicurezza degli edifici. Quel libro ha cristallizzato una realtà, un quadro da tenere in un salotto e poi gli investimenti hanno seguito un altro cammino. Questo non è che si ovvia con una norma che fa Frattini sul codice di comportamento dei funzionali o che lo fa Patroni Griffi, questo lo si ovvia facendo quello che il rettore Lazzati chiamava la preghiera laica, cioè ripetendo a ripetizione quali sono le cose che valgono, creando una condizione di cultura istituzionale e di cultura della programmazione. Il professore viene da un filone sul tema della programmazione economica che io rispetto e mi auguro che contamini di sé tutta la classe dirigente abruzzese, ma ce n'è un altro di filone più temperato che però pone la centralità e il rispetto nel comune della programmazione che è quello di Derita e del primo CNEL, diciamo è dei vasi comunicanti tra espressioni vitali della comunità. A quel livello lì non sarebbe accaduto, diciamo, le separatezze, non sarebbe accaduto quello che è accaduto. Cari universitari iscritti ai corsi che vi hanno visti convocati per questa, diciamo, esperienza, mi permetto di giudicarla seminariale, l'Abruzzo si trova adesso con un posizionamento di risorse finanziarie irripetibile per i prossimi dieci anni di 900 migliori di euro. Questa dotazione finanziaria per ogni anno che rimane ferma perde l'8% di capacità realizzativa e questo non è un fatto che richiede il ragione generale dello Stato che ce lo dica. La mobilitazione di questa risorsa interviene, accade, genera cantieri che sforchino le tute degli operai di cemento, nella misura in cui si sappiano esattamente quali sono gli obiettivi, sia delle politiche di contesto, sia delle politiche puntuali destinate alla vita delle singole imprese. Io mi auguro che con l'università e soprattutto con questa università, che la regione Abruzzo si possa dotare di un paniere di conoscenza viva dei suoli del territorio, dei mondi vitali del territorio e poi delle singole imprese che hanno progetti precisi di ulteriore vita. In via Molise esiste uno scantinato dove sono depositati le candidature degli imprenditori abruzzesi per avere i fondi della 488. Io la prima cosa che farò mi andrò a prendere quei progetti che sono un po' datati, però me li vado a prendere per capire qual è la dorsale di volontà, di investimento che caratterizza la struttura economica di questa regione e poi vediamo quali di quelle idee hanno ancora un'attualità, poiché oggi non c'è per la paura che ha preso il sopravvento un sito dove è depositato il numero di colori quali ha intenzione di investire, cioè di rischiare, cioè di fare la più grande delle opere collettive. E la seconda cosa che mi permetterò di fare sarà di chiedere alle università fatemi conoscere tutti i dottori di ricerca. Questa è una delle più grandi omissioni che fa l'apparato dei decisori pubblici. Noi abbiamo una struttura di intelligenza che è vicinissima dall'essere una intelligenza operativa, che è fatta di conoscenza, di metodo di lavoro, di consapevolezza di questioni emergenziali anche, e anche di grande capacità di liberazione di risorse, di potenzialità e sta lì, in una torre, forse a legittimare carriere, filiformi personali. Forse. Allora, i dottori di ricerca, anche per il lavoro che hanno già fatto, sono interessanti. E poi per il lavoro che possono fare, perché in Abruzzo c'è bisogno di innovazione di prodotto e di innovazione di processo, ma anche dei processi decisionali. C'è un signore, funzionario del Partito Socialista del Lavoro catalano, ha concepito i contratti di programma, i contratti d'area, gli accordi di programma, i patti territoriali. Lui lo ha concepito, lui. Lui che poi è diventato presidente del Comunità delle Regioni e a cascata, diciamo, animò una riflessione giuridica, culturale in tutte le università italiane. E non c'è stata nessuna pagina di patologia, neanche giudiziaria, che si è attivata in Catalogna. E perché, diciamo, non organizzare una condizione di maturità di coltivazione per cui a ripetizione accada dell'altro su questo fronte. Si parla tanto, per esempio, di innovazioni partecipative ai processi decisionali. Le librerie, quelle private e pubbliche, sono piene di stimoli affinché noi ci riaccorgiamo che ci dobbiamo porre il tema dei beni comuni. Insomma, a me piacerebbe declinare con una università che cosa sono i beni comuni, come ci possono aiutare i beni comuni, come ci possono garantire. Io una riflessione personale l'ho fatta e mi piacerebbe sottoporvela, ma sempre con una chiave, diciamo così, di registrazione economica positiva e non di logoramento, ma comunque di registrazione di incasso economico, di questa ulteriore riflessione anche scientifica su quelli che possono e devono essere i beni comuni di questa regione. È immaginabile, per esempio, che il luogo dove si è concepito il prosciugamento del fucino sia nella piena disponibilità del dirigente della regione Macera, che è un signore che il 27 del mese meritoriamente è contrattualizzato con la regione. Ma quel bene è molto di più di un bene che un asset che può essere cartolarizzato, perché c'è tutta la storia di un pezzo di questa comunità. Quindi ha un valore in più. Questo valore in più potrebbe essere collocato a certe altezze, affidato anche alla garanzia di custodia, di premura e di tutela di un livello di uomini e donne buoni, di probiviri, che vanno individuati con un sistema di supergaranzia, quasi da profilo di giudici della Corte Costituzionale. Tutto questo potrebbe venire dalla comunità politica, ma potrebbe venire più facilmente da un incrocio tra la comunità politica e la comunità accademica. Questa riflessione, diciamo così, che ci arricchisca, ci alleni a concepire quello che non è ancora stato, il nuovo. Facevamo una riflessione con alcuni diciamo addetti alla vicenda politica, che è una vicenda preliminare rispetto a quella delle decisioni di competenza delle istituzioni. Mi piacerebbe per esempio che noi ritrovassimo quali sono tutti i beni possibili comuni da rendere indisponibili rispetto all'azione quotidiana amministrativa. Così come mi piacerebbe immaginare come rendere certo un arricchimento del processo partecipativo. Moltitudini di persone che possono partecipare per esempio al processo deliberativo regionale o di competenza della Giunta o del Consiglio. E fare in modo poi che il portavoce di una moltitudine di 10.000 persone partecipi quel giorno, quale illustratore alla seduta della Giunta o del Consiglio. Anche questo può rendere interessante, preferibile, preferito un sito per investimenti economici di un certo tipo. Perché il tema della qualità della vita è un tema che interessa le proprietà delle grandi centrali di investimento economico. La Sarnovares di Atlanta, del quale se si potesse dire il vice proprietario viene spesso in Abruzzo. Alla nostra domanda, la mia domanda, ma voi che cos'è che prendete in esame prima di dire sì o no? Lui mi ha parlato quasi di un'indifferenza verso il mondo. Però mi ha detto certo ci prema e qual è la qualità della vita e qual è la qualità della vita per coloro i quali lavorano per conto nostro. Finito l'orario del lavoro, dove vanno costoro? Che accade? Che tipo di democrazia c'è in quei luoghi? Che tipo di devianza, di degrado c'è? Che tipo di estranità della popolazione c'è rispetto a quell'istituzione? Questa è la Sarnovares che ha due insediamenti industriali in Abruzzo. Gente che non ci crede più ai tempi lunghissimi di erogazione delle risorse tradizionali finanziarie. Tanto è vero che molte imprese sono morte aspettando l'erogazione della finanza tradizionale. Pensiamo alla cassa del mezzogiorno. I tempi di reazione sono stati vitale inettitudine istruttoria che è arrivata prima la mortalità che è il saldo delle aspettanze finanziarie. Io mi vorrei fermare con una chiusa conclusiva disponibile a sottopormi a qualsiasi vostro bombardamento, sia di domande che di appunti. Vedete, io disapprovo tutti quelli che dicono che tanto si può fare poco. Se si esclude la giustizia, la difesa, il battere moneta è un pezzo delle relazioni internazionali, tutto il resto è nelle disponibilità dei poteri che io chiamo statuali regionali. Comunque tutta la filiera che riguarda i nuovi accadimenti economici possono trovare esaustività nello spazio di una comunità regionale. Ma se aggiungiamo a questo che il vertice di una regione ogni mese parla alla pari come una specie di dieta con il vertice del potere governativo centrale, noi abbiamo la completezza dei poteri sul territorio. È chiaro che bisogna sapere cosa farne, bisogna inanellare l'agenda delle priorità. E bisogna anche superare la distinzione ottocentesca secondo la quale da una parte c'è l'impresa e dall'altra parte c'è il lavoratore. Bisogna cominciarsi a riporre la domanda come si crea la ricchezza per poi poterla distribuire. Io personalmente riassumo il mio modo di intendere la cosa con questa espressione. La nuova regione per la quale io mi impegnerò avrà una scritta di questo tipo, la legge uguale per tutti. Sotto questa scritta un'altra scritta, qui si può fare e poi si vede come. Rendendo il primo bersaglio dell'azione pubblica, la natalità imprenditoriale. La regione Marche ha 220.000 imprese. 220.000 imprese hanno più possibilità di selezionare le imprese che si irrobustiscono e che si internazionalizzano rispetto al numero delle imprese della regione Molise. E il clima di fiducia fa in modo che si osi, si intervenga, si investa e si percepisca una specie di spingimento che poi ci consente anche di intercettare il successo. Davvero concludo avendo messo in questa prima parte alle 11 di oggi ho ricevuto una bella telefonata dall'ingegner Mauro Moretti che è il decisore massimo della holding dello Stato delle ferrovie italiane perché gli ho posto un problema che in Abruzzo noi abbiamo un primato che i consorsi industriali abruzzesi non sono connessi ai raccordi ferroviari. Il professore parlava di interconnessioni negli spazi di lavoro della pubblica amministrazione e non solo. Noi abbiamo anche un difetto di interconnessione diciamo delle strutture che devono consentire la connessione al mondo. Il prodotto dopo che è stato posizionato va collocato nel mondo. Se c'è un livello che conduce al mondo del prodotto del nostro sistema delle imprese questo asset è prevalentemente il ferro. Poi c'è l'asset dell'acqua ma prevalentemente il ferro. Anche su questo la parola che può dire il potere locale è una parola, vi assicuro, esaustiva perché ci sono strumenti di contrattualistica tra il territorio e lo Stato sul piano della dotazione ferroviaria che si tratta soltanto di pretendere e di utilizzare. Pretendere e di utilizzare. Su questo fronte io sarò una persona che verrà a chiedere all'università di aiutare diciamo un'energia vitale all'indirizzo della decisione di qualità della politica. facendo in modo che scattiamo fotografie insieme per capire qual è lo stato di consistenza di questa regione e poi scattiamo fotografie anche in itinere per capire che fine fanno le risorse che utilizziamo. Un grande decisore dello Stato italiano Beniamino Andreatta che viene ricordato dall'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri ha provato ad insegnare all'Italia che decide che la buona pratica della decisione pubblica si alimenta e si nutre di numeri perché i numeri costituiscono l'oggettività delle questioni i numeri consentono di giudicare il PIL della Regione Abruzzo come insieme dei beni e dei servizi prodotti dalla comunità dell'Abruzzo che opera e si adopera e pari in valore assoluto perché nessuno lo pronuncia in valore assoluto a 29,3 miliardi di euro. Bene, noi ci dobbiamo porre l'obiettivo di aumentare la quantità assoluta di PIL per fare in modo che aumentino le risorse a disposizione degli abruzzesi dopo la produzione della ricchezza la ricchezza deve essere prodotta sapendo che l'Abruzzo verso il quale noi dobbiamo tendere deve consentire a ciascuno la realizzazione di ogni progetto di vita chi vuole studiare chi vuole curarsi chi ha bisogno di curarsi chi ha bisogno di intraprendere culturalmente chi ha bisogno semplicemente anche di spostare e di girare tutto questo io sostengo che con i poteri della nuova Regione a far data dal 2001 è possibile farlo nella speranza che non ci restringano questi poteri perché 12 anni di poteri omessi possono anche motivare a restringere questi poteri perché è dal 2001 che le Regioni sono state rese destinatari di una specie di rivoluzione in abbondanza dei poteri decisionali a favore dello sviluppo criticate tutto quello che io ho sostenuto perché prenderò appunto prima delle critiche un ringraziamento non solo per una vera e propria lezione magistrale che Luciano D'Alfonso ci ha regalato un intervento seminariale nel più alto significato possibile e prima di passare la parola agli studenti mi premerete come rappresentante diciamo di questa comunità scientifica diciamo comunità studentesca prima ancora che scientifica sottolineare diciamo D'Alfonso perché ne possa fare l'ottimo uso che riterrà l'esistenza di un'altra risorsa formidabile qui in Regione una risorsa che probabilmente negli anni passati è stata assolutamente non utilizzata e non valorizzata mi fa sempre piacere citare un dato in Abruzzo ci sono 70.000 studenti universitari sono 70.000 studenti che rappresentano su una popolazione residente di 1.200.000 abitanti una incidenza più che doppia rispetto al dato nazionale in cui abbiamo 1.700.000 circa studenti universitari su circa 60.000.000 di regioni al di là della consistenza numerica quando anche fossero al di là alla media nazionale quando anche gli studenti universitari fossero solo 35.000 noi dobbiamo credo fare una piccola rivoluzione culturale e cioè smettere di considerare i nostri studenti universitari fino all'ultimo giorno prima delle lauree degli scolamenti per vedere dopo due giorni il giorno dopo il conseguimento della laurea considerarli professionisti i nostri studenti i nostri 70.000 studenti universitari sono dei professionisti in formazione e possono iniziare ad esprimere tutto il loro valore prima ancora della proclavazione formale della laurea ora immaginare che in una regione come la nostra possano essere messi a frutto messi a frutto 70.000 intelligenze in formazione credo potrebbe fare davvero differenza dobbiamo individuare le modalità dobbiamo individuare gli strumenti per che queste 70.000 intelligenze possano dire da loro e possano concorrere ad una nuova idea di sviluppo io mi permette di aggiungere solo un'altra considerazione e lo dico i studenti dell'antimia lo sanno mi ripeto su questo ma lo faccio volutamente affinché queste 70.000 intelligenze possano iniziare a concorrere al processo di sviluppo hanno bisogno di una solida formazione e su questo noi non possiamo che riproporci di migliorare i nostri sistemi formativi hanno bisogno anche di una visione del mondo che richiede ad esempio almeno uno stagio all'estero non è pensabile poter concorrere oggi a meccanismi virtuosi di sviluppo senza aver avuto almeno un'esperienza internazionale certo non possiamo pensare di chiedere alla regione Bruzzo il sostegno finanziario per consentire 70.000 stagio all'estero però possiamo condividere con la regione Bruzzo un percorso di sviluppo che consente ai nostri studenti di iniziare di entrare da subito nel mondo della produzione del reddito e che possa consentire agli studenti di avere quella disponibilità di reddito per affrontare anche periodi di stagio all'estero esperienze formative estere per far questo noi te l'eramo avuto con piacere perché possa essere un ulteriore elemento di valutazione vogliamo in qualche modo realizzare un primo passo di questa rivoluzione il primo passo è concettuale l'università di Teramo non vuole eccellenze anzi non vuole perseguire una strada di reclutamento di eccellenze ma vuole portare avvicinare tutti all'eccellenza resteremo distanti da ogni volta sarà un risultato eccezionale aver avvicinato tutti i nostri studenti aver fatto fare un piccolo passetto in più verso l'ezzonanza questo perché riteniamo che la formazione universitaria così impostata e messa a disposizione della regione Abruzzo possa essere il miglior modo anzi è sicuramente il miglior modo possibile per realizzare una forma di democrazia sostanziale che pur non essendo citata mi sembra di averla riconosciuto più volte in tanti passaggi di tutto il processo questo rifiuto del modello dell'eccellenza che negli ultimi vent'anni ha diviso il mondo tra i pochi fortunatissimi che probabilmente per questioni non tanto collegate ad abilità personali ma ad abilità di contesto hanno potuto in qualche modo essere destinatari di interventi di azioni di sostegno e hanno avuto mano libera questo modello noi vorremmo rifiutarlo e vorremmo farlo responsabilizzando ancora di più i nostri studenti non solo siamo d'accordissimo Luciano con il sottotitolo della legge uguale per tutti tutto si può fare per se anzi noi qui l'abbiamo declinata in un modo se vogliamo più periferico noi diciamo qui l'importante è che la processione esce poi sempre sono strane noi vogliamo che i nostri studenti facciano uscire la processione per questo mi fa piacere sottolineare che questo è un gioco seminariale la presenza dicevo prima dei migliori studenti nell'accezione degli studenti che hanno iniziato già questa marcia sono qui presenti degli studenti che hanno dato vita ad associazioni studentesche ad associazioni di imprese la Junior Enterprise è stata appena restituita questa università non affiderà più all'esterno nessun servizio che è possibile affidare agli studenti e mi riferisco soprattutto ai servizi con elevata qualificazione professionale non ci rivolgeremo più a consulenti i nostri bandi d'ora in avanti nel momento possibile ovviamente saranno rivolte ai studenti perché crediamo che mettere in marcia i 70.000 studenti della regione possa fare la rivoluzione e su questo veramente chiediamo un aiuto alla regione per poter realizzare pienamente questa rivoluzione culturale convinti che in Abruzzo tutto è possibile ce lo dice la storia della nostra regione non voglio ovviamente studiare con ricordi di primati non è il caso di citare primati e solo avvertire l'esigenza ce lo diceva benissimo a quella canzone che poi è stata anche utilizzata dal suo partito Luciano come colonna sonora di una campagna elettorale fortunata veramente abbiamo da battere con il muro il muro che è solo nella nostra testa il maledetto muro che è nella nostra testa in Abruzzo dobbiamo fare questo superare la sensazione il complesso di inferiorità possiamo farlo abbiamo 70.000 studenti il 6% e oltre della popolazione residente che si sta cimentando nelle biblioteche nelle aure nei laboratori in attività ad altissimo valore dobbiamo solo valorizzarle non aggiungo altro oltre il ringraziamento Luciano Valfonto per il presidente di Lodoni perché ha organizzato così bene questo seminario ma vorrei davvero lasciare spazio agli studenti per rappresentare le esigenze non solo agli studenti ma di futuri cittadini di una regione di futuri cittadini di cittadini attuali di una regione che intende iniziare a correre a futuri decisori dai futuri decisori di un'altra regione di un'altra regione di un'altra regione siate riguardosi dissagrante di un'altra regione di un'altra regione di un'altra regione che ha iniziato a lavorare che è pronto che l'università è tra di più l'apparare in sedita. Ti chiederei di intervenire con una proposta su come poter aiutare queste associazioni studentesche a trasformarsi in imprese veri e propri, se tutto il problema è quello delle start-up, delle imprese innovative, dei rischi in offre. Io volevo proporre un problema che fa da preludio al fatto delle associazioni, ovvero della scelta dei ragazzi. Non sarebbe meglio concedere a più ragazzi l'opportunità di accedere all'università, ma che poi all'interno dell'università ci sia una maggiore selezione? Assolutamente sì, ma noi dovremmo, anche se non vogliono essere adesso invadenti, ci fa piacere, noi dovremmo metterci d'accordo su quanto vale questa porzione di popolazione che più di altre scommette sul futuro impiegando il cervello. Io non ho voluto sciorinare altri dati, questo è il dato più interessante del costituirci società, quelli che studiano all'università, io poi nella mia mente ho un altro dato, quanti sono insomma quelli che per esempio fanno volontariato in questa regione, che è un'altra porzione di interesse e per la quale dovremmo concepire qualcosa. Ma parlando all'università, sono 61.000 i volontari di questa regione, quelli che regalano il proprio tempo agli altri, quelli che impiegano il proprio tempo stimolando il cervello per fare in modo che il futuro sia più amichevole, migliore, siete voi, non è una porzione qualsiasi di società, cioè una porzione di avanguardia che sarà capace anche di essere mittente di generosità a favore di tutto il complesso della comunità. quattro ragazzi tra Silvi Marina, Città Sant'Angelo e Pineco hanno una società di logistica mondiale, fatturano 40 milioni di euro, cioè io mi inginocchierei lì, se il potere è riassumibile anche dal punto di vista fisico, io lo compiegherei il potere per fare in modo che diventi una funzione di ragazzi, quelli lì e di tutti gli altri che possono fare come quelli. Se io penso che nel 1901 è arrivato uno stabilimento industriale da Bergamo che ha occupato 32 ettari di terreno, uccidendo di tumore un'intera zona della Val Piscara perché produce cemento, parlo di un insediamento di una grossa famiglia di industriali del nord, questi ragazzi con 40 metri quadrati di spazio, quattro ragazzi fatturano 40 milioni, c'è la bandiera, bisogna organizzare la bandiera. E quello è il frutto della potenza esplosiva e liberatoria dell'impiego del cervello, un cervello però che si intriga di realtà, che si occupa della realtà. Ecco perché la regione dovrà essere intelligentemente e accoglientemente generosa con le università, accorgersi chi studia, chi studia bene, chi progredisce, chi fa ricerca, chi fa dottorato. E io adesso non so se rompo delle uova, non credo qui, ma il parco scientifico e tecnologico non abiterà dentro la regione Abruzzo, nei prossimi anni della regione, ma ci abiteranno le università nella loro, come si può dire, apprezzata capacità di lavoro istituzionale, senza commissioni economicistiche, senza inganni economicistici, però con una propensione a fare il proprio compito di istituto, a creare abilità intellettuali e poi a farsi carico degli spingimenti in avanti di cui ha bisogno, territorio e società. Quei ragazzi sono la dimostrazione vivente di come non è vero che facendo innovazione si fa soltanto esercizio, si fa anche produzione di ricchezza. E io li cito come un pezzo di regione che sta in avanti, io sono affascinato dal passato e dalla storia di questa regione, io quando vengo a Teramo ripenso a Melchiorre Delfico, a De Vincenzi di Notaresco, ripenso alle intuizioni formidabili del 700-800, alla voce del Gran Sasso, però questo Abruzzo è un Abruzzo che viene dal passato, ma che ha pagine straordinarie di modernità, il Laboratorio Fisica del Gran Sasso, Galileo ad Avezzano, questi ragazzi che stanno a basto, quello che fa anche lo zooprofilattico insomma, l'istituto zooprofilattico che riaccompagnato con le giuste attenzioni non patologiche secondo me può riassumere le ali e anche lì va prestato un orecchio gigantesco all'università per quello che può fare in quella direzione. Ma io, vedete, ve lo dico senza essere stimolato da voi, nella pagina 2 del programma della Regione ci sarà scritto i dottori di ricerca sono i più grandi alleati di questa stagione di nuovo governo. ma proprio è consustanziale alle necessità che io vedo. Una grande alleanza con chi la mattina sente la sveglia in veste del suo, gli imprenditori, e poi una grande alleanza con chi impiega il cervello. Queste sono le coppie tematiche di risorse umane che ci motivano, che ci convocano, che ci fanno evocare una Regione migliore. Non vi dico che io personalmente, ma non la Regione, perché mi ricordo una battuta di un bravo Ministro degli interni, un conto del Ministro e un conto del Ministero degli interni. Io poi personalmente sono incuriosito anche dalle tesi di laurea, però quella è una mia esigenza personale. Mi dispiace che le tesi di laurea finiscono in Paese degli Ombrelli, nel senso che fino a un certo punto rimangono carta viva e poi da un certo punto in poi finiscono, diciamo, nei Paesi degli Ombrelli. Dovremmo vedere anche di trovare un ricovero alle tesi di laurea migliori, perché anche la produzione documentale che viene fuori dall'Università secondo me non è giusto che sia oggetto solo di maternizzazione dentro le famiglie ad opera delle mamme, che ci fanno la festa la sera e poi finisce, finita la festa della sera, insomma. Mi piacerebbe anche che questo non finisse come semiabbandonato. Mi fa piacere dirti, visto che riferimento spesso ai contoraggi di ricerca, che sempre questa Università sta dismettendo di tutto per realizzare risorse, dobbiamo persino i lampadari del vecchio ritorato, ma quest'anno bandiremo probabilmente qualcosa come 100 posti di otto lato di ricerca rispetto ai 11 dello scorso anno. È una scommessa su cui crediamo moltissimo, stiamo elaborando un regolamento per attrarre i migliori laureati da tutto il mondo, nel senso che non faremo nemmeno selezioni in presenza, faremo colloqui anche per via telematica, ma l'obiettivo che ci siamo dati è di arrivare a bandire almeno 100 posti di otto lato. 100 posti di otto lato potrebbero fare per noi davvero la differenza. E lo facciamo volutamente, non sto scherzando quando dico che vogliamo non parlare del vecchio ritorato, noi vogliamo il Michetti che abbiamo a ritorato, perché vogliamo coinvolgere i ragazzi, i nostri studenti in questa operazione di rifocalizzazione. Noi siamo Università, dobbiamo investire nella formazione e nella ricerca e a questo siamo pronti a sacrificare vita. Con quella chiarezza di obiettivi che ognuno deve avere, che è quella che citavi tu prima, che penso sia un elemento anche di formazione molto molto forte. Se si ha un compito istituzionale, bisogna perseguire il compito istituzionale. E a questo siamo disposti a sacrificare qualsiasi altra forma di impiego di risorse, anzi, venderemo il vecchio ritorato, penso che prima poi ce la faremo, speriamo di un'aiuta anche da parte del Comune, degli altri enti che in qualche modo hanno la possibilità di dirlo, per investire solo su dottorati. Io voglio dirvi un'altra cosa che a mio avviso è opportuno sottolineare qui. Parlo in prima persona singolare, diciamo togliete la quota di antipatia che ha questo. Io da Presidente della Provincia sono stato il primo ente in Italia ad inventare, proprio inventare anche normativamente parlando, quelle che si chiamano una volta le borse di studio lavoro. Era Ministro del Lavoro Bassolino, il suo capo del legislativo era Tommasone, e lo andai a convincere della possibilità che nei cantieri attivati dall'ente provincia si dislocassero giovani, i migliori in uscita dal circuito formativo, per poter apprendere quella che non si può dire in pubblico, ma che per me immaginificamente è la migliore espressione, consente di imparare, diciamo, quasi la dorsale della persona nel sito del lavoro. Perché quando si fanno i colloqui, la domanda micidiale e schiacciante è che esperienza hai, per fare esperienza c'è bisogno di entrare nel circuito del lavoro, per andare nel circuito del lavoro c'è bisogno di fare esperienza. Allora noi rompemmo questa specie di infezione dicendo se ne fa carico per quello che può il pubblico potere negli spazi di attivazione economica. E individuiamo una meccanica tutta libera, non statalizzata. I più bravi vengono segnalati alle imprese che realizzano contratti e le imprese per contratto sottoscritto hanno l'obbligo di prendersi per ogni 100 milioni di lire una borsa di studio lavoro. Dove voglio andare a parare? E anche questo è roba nuova, che non è vero siccome non ci è ancora, non ci può essere dopo. Se ci impegniamo, voi a perfezionare, noi ad intuire e poi a realizzare si può fare. All'Aquila ci sono oggi realisticamente 2 miliardi di euro di lavori che devono essere costruiti. 900 sono i milioni dei fondi passi. Noi abbiamo una massa volumetrica in Abruzzo di provenienza esterna per 3 miliardi di euro. 3 miliardi di euro sezionati in piccoli spazi di intrapresa formativa per colui il quale ha concluso la formazione teorica per fare in modo che apprenda i passi iniziali anche di forme pre-contrattuali di applicazione lavorativa. Proprio per consentire la risposta alla domanda ma tu che esperienza hai? Probabilmente si pone in termini un po' differenti rispetto allo stage tradizionale o al tirocinio tradizionale. Ma sapete che uno dei problemi è anche la figura del tutor? C'è l'imprenditore che fa le porte a scomparsa e quello ha 25 dipendenti e deve lavorare pure di notte lui vede come un inciampo mettersi dentro l'azienda una figura. Io credo che il sito, questa specie di immagine medievale della corte artigianale è di per sé un bene, quello spazio, quel campo elettromagnetico. Se mi dà la disponibilità ad entrarci dentro e a metterci un ragazzo che si presta a combinarsi con quelle persone che producono il tutor, secondo me, può venire anche dalla comunità universitaria o da una comunità a cavallo con la comunità universitaria si deve vedere, ma anche questo è un problema che va tematizzato e risolto. Io non ci credo alla norma che pubblicata sulla gazzetta ufficiale e poi produca il dionisiaco prodotto. C'è bisogno poi di sperimentarlo nei suoi vuoti e organizzare i riempimenti dei vuoti. E questo è il di più che io vedo che altrove si è saputo fare. Il 16 di giugno verrà a pescare un signore per il quale io provo venerazione. Un signore che le cose le fa davvero, insomma. Un signore che ha reso la sua città la più bella d'Italia nonostante che le condizioni di partenza non erano esattamente democratiche. Parlo del sindaco di Salerno, attuale ministro dei trasporti. Noi vedremo che cosa farà lui dal punto di vista dei porti in Italia. Cioè lui si pone più volte la domanda ma quello che ho fatto è esattamente quello che serve, è bastevole. Che poi assomiglia alla domanda etica, eh? E tutto quello che c'era da fare è quello che ho fatto? La cultura della programmazione ha in sé anche un'eticità. Ho impiegato al meglio le risorse di cui disponevo? Cioè quando arriva quel fatidico 31 dicembre tu non hai fatto tutto quello che dovevi fare le risorse ti vanno quasi in perenzione. Cioè lì scatta, secondo me, una situazione giuridica che dovrebbe essere sanzionata penalmente. Quando c'è una condizione di allarme sociale tipo quello che c'è adesso. Allora, io quando vedo un ragazzo che ha fatto bene all'università e comincia a fare il giro delle sette chiese per provare qualche settimana di lavoro beh, io penso che lì ci sia lo spazio per cominciare a concepire una forma di immoralità collettiva. Per cui bisogna davvero mettere nel tubo della produzione intellettuale tutto il massimo dell'immaginazione. Allora, ci proviamo a pensare come fare pratiche innovative di avvicinamento tra il mondo della formazione teorica e il mondo della formazione applicativa, concreta che è il luogo del lavoro. Coniugare e avvicinare questi due settori di vita reale secondo me è uno dei compiti che abbiamo nel tempo nuovo dei doveri pubblici. Io personalmente me la sento ma di osare non di fare ciò che già si è fatto di fare qualcosa in più assumendomi qualche responsabilità in più. Quando facciamo le borse di studio lavoro nei cantieri l'Inail avvertì quelle forme quelle presenze come degli UFO pericolosi un bravissimo direttore regionale dell'ufficio del lavoro il dottor Francesco Colaci puntualmente indagato anche lui assolto e benedetto ci aiutò a concepire il procedimento amministrativo perché c'era un vuoto normativo e lui riempì quel vuoto normativo di una best practice. Su questo mi piacerebbe coniugarmi con l'università tutto questo quantitativo di ragazzi che studia con il sorriso e raggiunge la lode la stretta di mano fa la tesi di laurea seriamente si incrocia con esperienze ulteriori di ricerca tipo il dottorato o gli stadi precedenti l'assegno ecco io vorrei che questa gente conoscesse una non discontinuità della propria applicazione motivata perché il ragazzo che fa ricerca è un ragazzo che ha una motivazione ulteriore quella motivazione ulteriore secondo me dislocata dentro ad un luogo dove si fanno procedimenti pubblici all'indirizzo della realizzazione dei diritti collettivi è una garanzia a me piacerebbe per esempio che tutte le istruttore per i fondi FAS potessi avere anche l'utilizzo di una comunità di motivati intellettualmente cioè di motivati capaci di rendersi determinanti io vorrei tanto che in questa regione si concepisse un modo nuovo di attrezzare la casa alle giovani coppie le giovani coppie negli anni 60, 70 e 80 disponevano di un bonus rilevante da parte dei genitori di provenienza l'Europa il patto di stabilità lo sviluppo di mercato hanno tolto i risparmi delle famiglie di provenienza come si può a fronte di questo concepire una modalità nuova di ausilio alle giovani coppie che si fanno casa potremmo immaginare un riuso delle case dei piccoli paesi provvederemo anche ad una ridislocazione della demografia in giro per l'abruzzo potremmo fare anche questo poi si vorrebbe il tema della trasportistica di organizzare i trasporti ma Giovanna della sanità privata ci hanno pensato i magistrati ad occuparsene dei trasporti fatti con stravaganza su gomma potremmo occuparci nel sede politica a dare un riorno vedere quanto costa e quando prodotto fa potremmo vedere un turone che scrisse di sanità c'è stato e scrisse con anticipo naturalmente senza avere retta da parte di nessuno senza che succeda la patologia giudiziaria vediamo quanto costa il prodotto trasporto spostamento in abruzzo e quanta qualità c'è in questo prodotto però secondo me lì una riflessione va fatta in termini fruttuosi di invenibili io la vorrei fare io immagino la decisione pubblica così nutrita così istruita così anche convissuta concordata così verificabile misurabile e i ragazzi che vengono diciamo da da un approfondimento appassionato come quelli dell'università secondo me sono grande parte del lievito della retrovia della decisione pubblica quando in Italia le cose sono fatte è perché all'inizio del bilancio ci stava un gruppo di persone che avevano passione civile motivazione culturale quasi motivazione politica l'unica motivazione non era il contratto di lavoro non era il 27 del mese la stella che animava diciamo la produttività di quelle persone c'era anche una missione da realizzare gli anni del progetto 80 gli anni diciamo di quelle grandi cose fatte in Italia io mi auguro che in Abruzzo ci possa capitare una specie di elettrificazione delle emozioni di questo tipo applausi io devo un po' interrompere questo seminario perché è assolutamente utile e importante che Luciano Valdronzo visiti il nostro nuovo polo scientifico che vorrei far toccare con mano come nel giro di un paio di chilometri ci siano tre realtà che se messe insieme si renderebbero unici nell'Europa centri di violare e che purtroppo adesso sono ancora riviste da una serie di steccanti vorrei portarlo a visitare il nostro nuovo ospedale in Piano Daccio ovviamente non è ancora aperto l'ospedale ma anche per vedere le prossimità con lo zonprofilattico e con l'isodio agrario è necessario che ci si veda ancora un po' il notturno diciamo sarebbe un'esperienza interessante come esperienza di vita ma un po' meno più dominante per le potenzialità del popolo per cui davvero non mi spiacere ma mi spiacere che direi litigato dall'ambito che mi sembra di poter rivolgere al nome di tutti a ripetere e approfondire ulteriormente questi temi in prossimi incontri mi scusorrono tutti per provocare questa diciamo interruzione anticipata dell'incontro ma davvero ci tene in modo particolare a illustrare quello che potrebbe essere un polo di eccellenza non più regionale ma davvero dell'intera Europa centro-medicolare si potrebbe realizzare un qualcosa che non credo sia oggi disponibile in Italia certamente probabilmente anche in altri sensi per cui vi chiedo scusa per questa sottrazione di Luciano D'Affonso per questa interruzione ma ci ritroveremo in un prossimo appuntamento anche di qui a brevissimo in fazione per poter consegnare questo invito il 16 giugno sul ponte del mare il ponte del mare è a me di Teramo il ritornello di Teramo proveniente da Tescara ci fa piacere citarlo perché la struttura li vorremmo realizzare per poter fare quella città l'abbiamo già proposta più volte la riproporremo a manola del consiglio comunale 14 e caso vi viene anche tu che lo vuole bene io ringrazio ancora tutti ancora un applauso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti